Mostre sui dieci anni di euro, sui mezzi di locomozione, sulla storia in satira, sull'immagine della donna e molto altro. Gran parte del repertorio del Consiglio regionale può far vivere alle sale degli enti del territorio piemontese. Il prestito è gratuito, è sufficiente presentare una richiesta scritta. Sul sito nella sezione Mostre del Consiglio si trova il catalogo con le descrizioni delle esposizioni e il contratto di comodato gratuito da compilare. Grazie a tutti!